La Chiesa di Chiavari si prepara ad accompagnare con gioia uno dei sacerdoti del presbiterio diocesano verso l'ordinazione episcopale. Sono passati 35 anni da quando il sacerdote chiavarese, Monsignor Giulio Sanguinetti, venne nominato vescovo e ordinato in Vaticano da Giovanni Paolo II. Ora, come allora, i fedeli diocesani si preparano a festeggiare questo evento principalmente con la preghiera, una preghiera che diventerà corale quando sabato prossimo, 9 gennaio, Monsignor Corrado Sanguinetti diventerà vescovo. La solenne celebrazione inizierà alle 16 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Il rito dell'imposizione delle mani sarà presieduto dal Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e metropolita per la Liguria. Concelebreranno Monsignor Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari, e Monsignor Giovanni Giudici, già vescovo di Pavia. Insieme a loro si uniranno nella preghiera una decina di vescovi, sacerdoti, numerosi fedeli, diocesani, quelli provenienti da Pavia, la diocesi assegnata dal Papa al neovescovo, quelli del Movimento di Comunione e Liberazione. Una parte della navata centrale della Cattedrale sarà destinata a coloro che provengono da Pavia. Ci saranno posti assegnati per i familiari e le autorità. In Chiesa saranno posti due schermi per consentire anche quanti siano in posizione arretrata di poter seguire il rito. Per coloro che non avranno accesso alla Basilica, saranno predisposti posti a sedere sul Pronao, dove si potrà seguire il rito attraverso un videoproiettore e un ledwall a disposizione di quanti sosterranno in piazza Nostra Signora dell'Orto, che per l'occasione sarà inibita al traffico e sgomberata dalle auto. È previsto l'afflusso di circa 1.500 partecipanti. Per i celebranti e per coloro che siano in possesso di autorizzazione, sarà possibile la sosta delle auto nel vicino Parca Sarotti, messo a disposizione dall'amministrazione comunale. I pullman provenienti da Pavia saranno invece disposti su un tratto di 50 metri in via Larata, lato monte, lungo il quale sarà fatto di vieto di sosta per altri mezzi. Il neovescovo avrà la gioia di salutare quanti lo desiderino al termine della celebrazione, negli spazi del seminario vescovile, che saranno accessibili ai fedeli da Corsa Sarotti.